Da che parte stia Ma Dave, è il 2019 Ah shit Sappiamo tutti che su Tekken 8 lo mettono A chi? Carl Johnson Ma magari è l'ultimo personaggio della season 3 Chi lo sa Questo Dark White contro Yui Boh non ha detto che accetta Yui Per ora No Ah shit Ah fuck Vai Barra, continua a salire Continua a salire Barra Please Ma succede Storo Che succede? Credo mi si sia fottuto il controller Buona tastiera Ho vinto io a tavolino Sono troppo forte Com'è ti si è fottuto il controller? No ci siamo? Faccio D e mi da DB Buona vai Stai Di tastiera Cos'è vuoi testare o si può andare? Si può andare dai Si può andare Un controller che muore? Apparentemente si Ufff Ah fuck Oh Volevo fare il doppio dive kick Oh Nooo what? Ah Time up Time up I due controller Facevano lo stesso Lo smontai e feci una modifica Cosa? Ho punito uno stagger? E va bene E va bene E va bene Buona buona Siamo pari Va bene così Ah ok Mi è morto il controller I could use a drink TPS3 controller Random input fix A quel momento ho workato sempre alla grande Non sbaglio più un input Se non perché sono ritardato Gimme 5 Va bene dai Gimme 5 Nel frattempo Chi viene a fare un po' di match? Perché ormai è privata la stanza Piento Io no Mmm Per le vetture di 18 Sei fuori You are fired E poi il match di prova andava benissimo Era la rage Se vuoi sfidare il più forte Geese di casa mia Dove sei Dark? Ah no è vero che sei Super Santoro Super Santoro Come non ti vedo? Cos'è appena successo? Avi ha donato altri 5 euro Incredibles Per il TPC Big money Mamma mia Ormai tutti vorranno entrare Grazie Ringraziatevi Ringraziate Avi per questa donazione Per il vincitore del TPC Niente più TPC No no c'è Stiamo aspettando Castoro Perché gli si è sminchiato Gli si è sminchiato il pad Tecnicamente avevo vinto Se vincoli regala Dave Ah shit Here we go again Prima di entrare però è Castoro Perché ora ci sono Speedy e Castoro E Castoro Volevo dire Dark Vibe Prima di entrare Dark Perché ci sono Speedy e Castoro Che sono Iniziano a staccarsi dal gruppo Ma no ti pare Non ti funzionava il pad Mi devo ancora 50 euro Perché ti devo 50 euro Cosa per le grafiche E tutto il resto Ma io non ho mai Ha consentito di pagarlo Vabbè dai mi prendo l'uno Mi prendo l'uno Che così almeno non è Ancora 3 a 0 Non ho mai firmato Nessun contratto Luca Quindi io non pago Assolutamente niente Non pago Assolutamente niente Ma si fai 1 a 0 dai L'uno Mi prendo l'uno Non pago Come si fai 1 a 0 dai Ma si fai 1 a 0 dai Ma si fai 1 a 0 dai Ma si fai 1 a 0 dai Fate sto match poi ci sono? Va bene dai Cosa è successo? Ashi Certo che era serio Ma certo che è serio È dal primo giorno che mi chiede Big Money Però non ha capito che io sono povero Ah mi ero anche abbassato Ma è la mia connessione allora che sminchia così di brutto Ma sono in range Buttato nel cesso il pad Per quale motivo? Altrimenti perde a tavolina buona Vediamo vediamo dai Uff Ah shit Sto per morire Non ho capito perché quando dono mi lagga la stream Ma è normale È la mia connessione svizzera Troppo povero per permettere di buttare il pad Oh no Sbagliato Nooo Oh no che sputato Ne li punisce tutti Si chiamano macros È imparato dai migliori Fa i board Per il lag è da 0,5 Only the best Frato lolly the best Quando è che è? C'è già stato? Ah no forse c'è No non c'è già stato Allora Castoro Vorrei andare troppo Andare all'OTB Ma hai detto che non hai sbatta di andare a Torino Vai fino a Napoli Per combici esteri che vanno Tipo Black Kazama Io sono bloccato su Elisa Quindi Elisa Elisa L'idolo di pianto Black Kazama Tipo signor farfalla E qualche amico francese Signor farfalla Colui che gioca su pad Ma non usa Il pad direzionale Usa lo stick Del pad What? E poi E poi la gente dice che non è rotto Gigas Pensa te C'è il signor farfalla Che gioca a Gigas Con lo stick del pad Devi cambiare il mese del Ah si hai ragione Faccio anche lo cambio adesso Anzi no dai lo uso dopo Io non ho amici Ah shit First war problems Ma non è vero BRH Com'è possibile? Era l'instant hype kick Quali lì Ah Ah No Gli ho più skip No Volevo far la rage art Gli ho ancora dare i giochi Ah si A te A Luca È vero Non ve li ho ancora dati Hai ragione Ce l'ho fatta Ah shit Mi lo sono preso in counter FF4 4-2 in counter È la fine Maronna Che danni Ehi Chi coglie il mid? Tu scammer? Sarà il tuo amico Minakuma Nooo Una storia d'amore Che non sa da fa Round 3 Fight Ufff Ufff Non riesco a romper le prese Stasera Round 4 Fight Maia mia Era pronto Stavolta No Non è partito il dp Ah fuck Però c'è ancora una speranza No Niente special dp Come ti permetti Come se fosse l'unico personaggio Che non conosco Pianta che piange Perché non conosce Elisa Quindi il mio matchup è 0 Vabbè basta che ti Ti prendi in prestito La copia da internet No con Gigas Negan Non posso prenderlo Perché mi punisce Tutto con 1-2 Mi prende sempre con 1-2 Mi esplode ogni volta L'unica è Yoshimitsu Se perdo Torno Torno ad Elisa Ma che mi regali Si può prendere Si può prendere in prestito Gratuitamente Elisa Un brutto matchup Per Gigas Ma se può punirlo In qualsiasi modo Può piazzargli L'1-2 Su tutte le stringe Round 1 Fight Picchia 1-2 Sul Sul DF 1-4 Sul filtro Non posso nemmeno più usare Poco Ah Ehi Buon Fuck Voi non potete usarla Ti ricordo Grave Che ci ho battuto Con Elisa Mentre non posso più usare DF 1-4 Ufff Ufff Stuck 1-2-1 No 2-1 Boh Non mi ricordo Vuoi fare best Thet Ah Sono troppo impegnato Con Castoro No 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 Sono troppo lontano Oh La bloccavo il neutral L'anti Castoro Ah Shit No Fuck Fuck They're most strong than I'm in the line of munitions Deny these nuts Oh No Oh È andato anche bene Fuck you Fuck you Castoro Dei mosca? Come fai a saperlo? LTT eh Sembra una mosca LPG What? È bellissimo questo Yoshi È lo Yoshi più bello Perché la prendi con le tette piccole E gli altri perché è buono? Comunque è vero la storia Riallenando Ma non potete lo stesso That gigas is good Come on Jframe Don't say that about Castoro Castoro He's going to Boost himself Wait Wait What's the word Come si dice in inglese Si monta la testa Thank you very much Jframe Good evening Wait Jframe Tette piccole rullano Esattamente Stafari Diglielo Diglielo Round 1 Fight How are you too? Oh I'd be strong too If I was Ah fuck CD1 mi è uscito Per sbaglio Yep Yep Ok Niente di anormale Ehi I have an unblockable Castoro may be strong May be strong But I have an unblockable Mate Dave ci fai vedere le tettine Nah Se mi paghi si Sul mio Patreon ci sono Volendo Però gratis No ci mancherebbe Non stare in una mano Forse un attimo più grandi Esattamente Fortuna che c'è Starflare Che capisce Ah shit No please Don't hit me I'm just I'm just a Yoshimitsu Oh Vabbè No Ce l'ho creduto It is DF DF1 Launcher It will always reach I keep Misinputing it Though Ah fuck I was scared I A Ah fuck 1-2 La lag mi sta aiutando Castoro non so come mai Ma ogni tanto perde frame Ogni tanto skippa roba Oh fuck Fuck Perché mi sono incasinato così Quanto siamo al momento Due pari E' il schere Bestemmio Si andrà 2-2 Ebbene si Ma come va il pad adesso Più che altro Magari stai giocando monco Ma solo le due Sono in live Sì certo Sono online Quando spieghi contro Dave Ok Oh grazie per la seguenza Vado a morire Ma come di già Buona morte allora Bestemmio Shish Ma inglese è perfetto Che stai parlando Fire Non ci lasciare Se è un vero amico Solo tu Buonasera Fire Stai per assistere Allo stupro Di un povero polipo Ah Ok Perlomeno l'ho fermato No What What Non era in counter Come va fire Come va fire By the way Jframe Are you I guess You are a gigas player too Ah shit Ah shit Però anche voi Io devo prendere una pausa Devo prendere una pausa Da twitch No sono mongolo No Yes Yes Ti raffida questo è un incontro Dello Darkman panel It's one of my two mains Alongside Alongside Alisa Wait, you use one of the Most hyped character Not the best Far from the best, which is Gigas And then you use Alisa Ah shit Ah shit No, it's a normal Non si possono usare le prese normali in questi match Fanculo, è una partita a Rage Art Questo è molto meglio il TVT Esattamente, Fire Adesso che c'è Dark Vyde, Fire Serve qualcuno che lo fermi Altrimenti si vinci Big Money Dark Vyde No! Chissà che la testata è punibile After his charge attack If you have the read for the mid Don't flash, just two One plus two For the parry Ah shit No, un'altra presa normale This is for the beans All the beans Nooo Non ho avventato lì L'UF3 Oh no Sono un mongolo Dovevo andare di due Non posso perdere così Nooo Nooo Fuck Che whiff Che whiff Sul while running Avevo finito Maledizione Che vungolo Fuck GG GG gastò Pronto con la punish E fuck my life